Hai ricevuto il rendiconto costi oneri della tua banca? Oppure hai provato a richiederlo in banca o al tuo consulente, ma ti sei accorto che c'è stata una certa reticenza nel fartelo consegnare? Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, tutte le banche e reti di consulenti finanziari avrebbero dovuto rilasciare questo rendiconto relativo ai costi che ogni risparmiatore e investitore affronta per la gestione del proprio portafoglio di investimento. Non parliamo dei costi del conto corrente o dei bonifici, ma dei costi spesso nascosti o poco conosciuti dai risparmiatori collegati agli strumenti e prodotti finanziari in portafoglio e che spesso stati consigliati dagli stessi intermediari, come ad esempio i costi di gestione sui fondi, le polizze e le gestioni patrimoniali, ma anche i costi collegati per esempio alla movimentazione di questi titoli, gli eventuali costi per la consulenza fornita e i costi accessori e qui potete vedere alcuni esempi di questi rendiconti ogni ricosti di diverse banche. Ah scusate, non mi sono presentato. Sono Marco Cini, consulente finanziario indipendente di Soldi Expert SCF, società di consulenza finanziaria, iscritta all'albo CF e fra le pioniere in Italia e nel settore. Come consulenti finanziari indipendenti non vendiamo prodotti finanziari o riceviamo commissioni o provvigioni dagli strumenti finanziari che consigliamo, ma il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a gestire i loro patrimoni con maggiore consapevolezza e con una corretta pianificazione finanziaria. Siamo remunerati solo dai nostri clienti e curiamo gli interessi esclusivamente dei nostri clienti. Ah, non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube, ma torniamo ai nostri rendiconti oneri e costi. Durante i check-up gratuiti dei portafogli che ci vengono inviati, andiamo ad analizzare differenti parametri, come ad esempio la congruità tra il profilo di rischio del cliente e il suo portafoglio di investimento, la tipologia e la qualità degli strumenti utilizzati e i costi di gestione che gravano sul portafoglio. In alcuni casi sono già le persone che ci inviano anche il rendiconto oneri e costi Mifid, però nella maggior parte delle volte siamo noi a consigliare di richiederlo, perché normalmente non ne sono a conoscenza. Ricordiamo che il rendiconto oneri e costi è l'unico documento ufficiale che dovrebbe presentare, in modo aggregato, tutti i costi associati agli strumenti finanziari in portafoglio, sia in valore assoluto, ad esempio avete speso 50, 1000, 30 mila euro all'anno, sia in percentuale rispetto al patrimonio, ad esempio 2, 3, 4% e oltre. L'introduzione della direttiva Mifid 2 nel 2018 ha evidenziato l'esistenza di un problema preesistente, di scarsa trasparenza nel settore finanziario, in particolare per quanto riguarda i costi e le spese. Prima dell'entrata in vigore di questa direttiva, molti investitori non erano a conoscenza dei costi effettivi dei loro investimenti e spesso si trovavano a pagare spese nascoste o poco chiare. E ancora oggi molti risparmiatori pensano, secondo le ricerche della stessa Consob, di non pagare nulla per la consulenza prestata dalla banca che consiglia fondi o certificati. Ma in realtà le cose non stanno in questo modo. Questa mancanza di trasparenza rende difficile per gli investitori prendere decisioni informate e scegliere magari il prodotto finanziario più adatto alle proprie esigenze. La direttiva Mifid 2 ha quindi rappresentato un importante passo avanti nella protezione dei consumatori e nella creazione di un settore finanziario più trasparente e responsabile. Però già nel 2019, ESMA e Consob, dopo i primi rendiconti, hanno spinto banche e reti di consulenza a utilizzare un modello più standardizzato e più semplice per esplicitare meglio e in modo più succinto questi dati, poiché è emerso che diversi intermediari rendevano poco trasparente la comunicazione di questi dati e di questo documento. Spesso il rendiconto è costituito da decine di pagine piene di numeri che potrebbero, dico potrebbero, mettere confusione al cliente. Nel corso di questi anni qualcosa è migliorato e alcune banche hanno reso il rendiconto più comprensibile e meno un mattone dove i numeri importanti da leggere quasi sparivano, affogati in decine e decine di pagine del tutto inutili al fine di fare un certo catenaccio. In proposito, è molto interessante l'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore Plus a inizio maggio 2023. All'interno di questa inchiesta è stata fatta una ricognizione sulle varie banche e reti di consulenza per confrontare le modalità di presentazione del rendiconto. Beh, già dal titolo possiamo capire qual è stato il risultato dell'inchiesta. La confusione regna spesso sovrana e per presentare due dati molto semplici sono state utilizzate fino a 20 pagine. C'è chi ha inviato il rendiconto cartaceo e chi lo ha reso disponibile all'interno della propria area riservata del sito. Ovviamente in mezzo a decine di documenti che probabilmente nessuno ha mai guardato e i clienti di banche e reti non ricevono quasi mai avvisi per email o posta che possono consultare questo documento. Ma la cosa più curiosa sono stati anche i nomi utilizzati per descrivere questo documento. Informativa sui costi, rendiconto investimenti, rendimenti, MIFI 2 ex post, rendiconto ex articolo 50 e tanti altri. Dalla nostra esperienza e da quello che abbiamo potuto visionare dai rendiconti che ci sono stati inviati abbiamo identificato un altro problema. La percentuale di costi su quale capitale viene calcolato. Nella maggior parte dei casi viene calcolato sull'intero patrimonio e non solo sulla componente del risparmio gestito. Ovviamente in questo modo il costo viene diluito anche su altri strumenti finanziari che non hanno costi di gestione e che magari il cliente aveva acquistato direttamente come ad esempio obbligazioni, azioni o ETF. La fantasia di alcune istituzioni finanziarie non stupisce mai. Forse l'obiettivo è quello accidentalmente di confondere il risparmiatore. Le raccomandazioni che il regolatore italiano, ovvero la Consob, aveva ribadito nel maggio del 2020 sono abbastanza chiare. Tutte le informazioni indirizzate alla clientela devono essere corrette, chiare e non furbianti. Questo obiettivo lodevole non sembra essere stato raggiunto. Peraltro come ogni anno durante la fine di aprile e l'inizio di maggio raccogliamo veramente moltissime testimonianze da parte delle persone che ci richiedono un check-up e per fortuna non siamo stati soli a dire che purtroppo i costi continuano ad essere nascosti o non comunicati. I costi però sono l'unico parametro da tenere in considerazione quando si parla di risparmi o investimenti no assolutamente però è un elemento importante da analizzare o almeno da conoscere. Un risparmiatore che ha la consapevolezza di quello che paga può capire meglio se il servizio che gli viene erogato è magari all'altezza dei costi sostenuti e può fare comunque più facilmente dei confronti più corretti. Indipendentemente dall'andamento dei mercati ridurre i costi di gestione può consentire di efficientare il portafoglio. Maggiori costi sostenuti da risparmiatore per i servizi di investimento non significano affatto garantirsi la possibilità di ottenere maggiori rendimenti così dimostrano centinaia di ricerche sul tema. I costi influenzano direttamente il rendimento dell'investimento e anche una differenza apparentemente modesta di un punto percentuale nelle commissioni annuali di un fondo di investimento o di un fondo pensione può avere un impatto significativo sui rendimenti a lungo termine. Per questo motivo purtroppo in banca secondo la stessa commissaria europea ai servizi finanziari McGuinness c'è ancora molta strada da fare sulla strada della trasparenza finanziaria. In un discorso che ha tenuto a fine aprile del 2023 a Stoccolma ha detto fra le altre cose agli investitori agli investitori al dettaglio raramente vengono offerti prodotti meno costosi anche se spesso questi possono funzionare bene come quelli più costosi i costi vengono trasferiti ai consumatori attraverso commissioni elevate e spesso opache che pagano i consulenti finanziari per i prodotti di investimento i consumatori molto spesso non si rendono conto di quanto stanno pagando per i prodotti finanziari o di come confrontare i prodotti disponibili sul mercato quest'area più di ogni altra nei servizi finanziari è quella in cui credo davvero che dobbiamo affrontare i conflitti di interesse relativi alla consulenza sugli investimenti ora penso che tutti dobbiamo riconoscere che stiamo parlando di investitori al dettaglio non dovremmo aspettarci che loro o noi siano esperti di servizi finanziari e quindi ancora più importante evitare conflitti di interesse in quest'area i consumatori meritano consigli decenti di cui potersi fidare a un prezzo decente interessante vero? la sua proposta di eliminare in tutta l'Unione Europea gli incentivi ovvero le commissioni che oggi vengono retrocesse sui prodotti finanziari non è passata per la ferma opposizione di alcuni stati e del sistema bancario inutile dire che la reticenza nell'utilizzo degli etf da parte di diverse banche e reti dipende proprio da tutto questo discorso gli etf rispetto ai fondi non retrocedono gli emittenti neanche un centesimo e in proposito se vuoi capire meglio come gli etf possono aiutarti a efficientare il portafoglio puoi scaricare la nostra guida gratuita sugli etf sul nostro sito dove trovi il link in descrizione la consulenza solo a parcella e senza conflitti di interesse come quella fornita ad esempio da soldi expert scf non diventerà a partire dal 24 maggio il modello europeo ma la commissaria europea vuole comunque cercare di stringere qualche vite per aumentare la trasparenza capire quanto si paga per la consulenza ricevuta è quindi importante anzi vitale per un risparmiatore e questa discussione sui rendiconti oneri e costi e la discussione portata avanti dalla commissaria europea ai servizi finanziari e alla stabilità è importante e non evidentemente una cosa da euro burocrati tocca gli interessi di centinaia di milioni di risparmiatori e anche te probabilmente e voi avete identificato il rendiconto oneri e costi mifid della vostra banca? se avete difficoltà a identificare i dati più importanti potete inviarcelo a questo indirizzo così vi possiamo aiutare magari nella lettura e nell'analisi del vostro portafoglio se hai domande o vuoi richiedere un check-up gratuito puoi scriverci a info chiocciolasoldiexpert.com a presto prova un'esperienza differente e conoscerai la vera consulenza finanziaria indipendente e il lavoro di Soldi Expert SCF a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti